Un saluto ai ragazzi della classe terza della scuola media di Pietracuta. Volevo dirvi due parole sul fair play, che non è una regola scritta, come tutti sanno significa gioco leale, gioco corretto. Quindi all'interno di quello che è il mio mondo, che è il calcio, ma non lo sport in genere, perché penso prima di tutto al rispetto delle regole, al rispetto dell'avversario, ma non solo. Fair play significa riconoscere i propri limiti, significa sapere di ottenere un risultato attraverso i propri sforzi e i propri sacrifici. Quindi penso che sia una regola che valga prima di tutto nella vita e poi nello sport, perché vincere sapendo di aver preso la strada una scorciatoia o sapendo di aver barato, prima di tutto, secondo me la cosa più grave è tradire se stessi. Quindi fair play significa rispettare prima di tutto se stessi, ma anche gli altri. Un abbraccio.